I traumi distorsivi del polso sono frequenti soprattutto nei pazienti sportivi e rappresentano una lesione dell'apparato capsule legamentoso senza una permanente perdita dei rapporti tra i capi articolari invece la lussazione è rappresentata da una lesione capsule legamentosa con una perdita permanente dei rapporti tra i capi articolari. I sintomi dei traumi distorsivi sono normalmente dolore al polso con un deficit funzionale senza una grande deformità del profilo del polso della mano mentre a livello dei lussazioni abbiamo una grande deformità ed è rappresentata da un'urgenza in realtà cioè la lussazione a differenza delle distorsioni è un'urgenza nella chirurgia della mano. Per quanto riguarda le distorsioni normalmente il primo trattamento è un trattamento di immobilizzazione si mette un tutorial o un gesto che blocca il polso per circa dai 4 a 6 settimane. Questo è l'approccio immediato. Per quanto riguarda la lussazione, la lussazione del polso necessitano un intervento chirurgico che è un intervento anche complesso. Non sono molto frequenti ma nel nostro centro all'ospedale isolitico ci capita assolutamente di trattare anche queste patologie complesse. Grazie. 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 Grazie.